Zip News, speciale meteo. Temperature in calo, massime tra 25 e 28 gradi. Al sud, iniziali schiarite dal pomeriggio rovesce temporali in propagazione alle zone interne peninsulari dell'Adriatico. Temperature in lieve calo, massime tra 28 e 32 gradi. È tutto grazie per l'ascolto in regia Rosario Perez. Le notizie nel modo più veloce.